La situazione in Val Bormida, come credo lo vediamo dai quotidiani, dai media, è cambiata, soprattutto in Val Bormida che era una zona, un territorio dove erano presenti le grandi fabbriche, quindi c'era lavoro per tantissima gente, pensiamo alla Tremme, all'Acna, comunque aziende che oggi purtroppo non ci sono più, in parte non ci sono più, si è creata chiaramente una crisi maggiore rispetto a quello che è il panorama a livello nazionale. Da qualche anno è anche aumentata la concorrenza per quanto riguarda le nostre imprese sul nostro territorio, viviamo solo più di terziario, non più di industria e chiaramente sentiamo di più la crisi rispetto a un po' di tempo fa. Il nostro impegno comunque è quello di continuare. La nostra società Proval SRL, che è l'acronimo di progetto Val Bormida, aveva l'intento appunto di crescere la nostra attività iniziale. Oggi non è più sicuramente come allora, nel senso sono venuti a mancare quelle che erano le potenzialità industriali. Faccio riferimento al stabilimento della Tremme che purtroppo ha chiuso, 6.000 famiglie che probabilmente sono andate in crisi e l'attività chiaramente non è più quella di allora. Nonostante questo noi intendiamo proseguire il nostro progetto, quindi crediamo che ci sia ancora in Val Bormida la possibilità di crescere, di far crescere le famiglie e le persone che vivono in questo territorio.